Prova. Un incendio buschivo è divampato domenica 19 gennaio, intorno a mezzogiorno, nella zona tra Ponte Canavese e Frassinetto. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Vrea, Castellamonte e Quornier e le B di Ponte Canavese, per cercare di circoscrivere il rogo in modo che non si estenda e di spegnerlo. Fortunatamente sono riusciti a bloccare l'incendio che stava raggiungendo un'abitazione. Nel pomeriggio è intervenuto anche l'elicottero per lanciare acqua sui focolai, facilitando così lo spegnimento, trattandosi di una zona impervia. Sul posto anche i carabinieri, accertamente in corso sulle cause del rogo, che non si esclude possa essere doloso. Grazie a tutti! Grazie a tutti!